Andrea De Monti, complimenti per la vittoria, per il gol che hai fatto, per questa vetta che conquistate in maniera sorprendente, visto l'inizio della stagione, ma per tutto quello che avete fatto non sorprende. Anche oggi avete dimostrato che sapete giocare, che sapete soffrire e vi godete questo grande momento. Sì, è proprio così. Diciamo che per quanto riguarda oggi era una partita che si preparava da sola. Abbiamo giocato contro la capolista, sapevamo che sarebbe stata una partita veramente difficile, ma il Lisius è un fortino, è difficile spugnarlo, quindi diamo sempre il massimo. La prepariamo durante la settimana e la domenica mettiamo in campo tutto quanto. Quindi siamo soddisfatti, siamo sicuri di quello che stiamo facendo e dobbiamo continuare per questa strada. Senti, siete a pariti bene, ma la parita si è messa ancora meglio sul tuo gol. Un bel tiro con la complicità del portiere. Sì, diciamo che è stata una conclusione abbastanza fortunosa alla fine, però l'importante è che superi la linea, non è quello su cui dobbiamo discutere, però sì, magari ci ha dato la carica, perché comunque si festeggia sempre. Ci ha dato la carica magari, e quindi abbiamo preso fiducia. Lì avete preso fiducia, avete continuato, è poi stato fondamentale andare al riposo segnando il 2 a 0, perché lì è stata un'altra iniezione di fiducia per voi e magari è una delusione per voi. Andare negli spogliatoi facendo il 2 a 0, il minuto di recupero ci ha aperto un mondo davanti, nel senso non dire di entrare al secondo tempo, non pensavamo di entrare al secondo tempo a difenderci, volevamo continuare ad attaccare, perché comunque se ti abbassi prima o poi il gol lo prendi, come magari è successo verso la fine, che può essere anche comprensibile dal momento che eravamo comunque stanchi, abbiamo corso tanto tutta la partita, ci siamo abbassati un pochettino, giustamente anche perché eravamo stanchi. Ricordiamo che c'erano quattro punte anche del trust ever in campo. Avevano quattro punte, abbiamo dato una mano anche noi centrocampisti e difensori, l'attacco correva indietro per dare una mano con lo stesso, quindi un gruppo molto coeso, ci aiutiamo a vicenda in qualsiasi situazione. Non dimentichiamo che seppur avete subito il gol del 2 a 1, poco prima avete sbagliato il 3 a 0 con Tengoran. Infatti, come si dice, gol sbagliato, gol subito, lì è stata una bella botta sbagliare quel gol, però se ci fossimo buttati giù veramente avrebbe ripreso la partita il trust ever sicuramente. Siamo stati bravi, anche prendendo gol, pazienza, a tenere il risultato a nostro favore. Senti Andrea, come si vive questo momento? Perché è un sogno, però poi lo state toccando con mano, perché si diceva che molte squadre potevano essere superiori all'Anusei, poi il campo ha detto il contrario. Quello senza dubbio, ci sono squadre che hanno budget di milioni di euro, sicuramente non come una piccola realtà come l'Anusei, però l'importante è sempre metterci il cuore, sudarsi la maglia, correre, e non vuol dire che se guadagni dieci volte di più, corri di più di me, quindi ecco, questo è quanto. Senti, il mister, visto che era un ex, ha chiesto qualcosa in più in particolare o comunque bastavano i tre punti? Devo dire la verità? Sì. Gli abbiamo fatto il regalo di Natale, però il mister è stata forse la prima volta, conosceva a memoria tutti i giocatori, quindi comunque ce ne ha parlato perché l'ha preparata benissimo, ma è stata la prima volta che veramente la partita si preparava da sola perché c'erano le motivazioni e il mister è stato bravo in questo, nel senso capisce quando c'è da spingere un po' di più, da spingere un po' di meno, alzare la tensione, è a posto. Senti, l'incredibile è la vetta, ma soprattutto siete a un passo dalla salvezza e non è ancora finito il giorno di andare. Esatto, il nostro obiettivo prefissato all'inizio del campionato è stata la salvezza, ora pensiamo a raggiungere la salvezza, i punti necessari, quest'anno con 20 squadre saranno poco più di 40 credo, pensiamo a raggiungere la salvezza, poi tutto quello che verrà in seguito sarà tutto guadagnato. Quindi vi mancano 5-6 punti ancora, giocate sabato col Budoni e andate lì a prendere i primi punti per accorciare verso il primo mito? Noi andiamo lì a vincere, ma non perché Budoni, andiamo a vincere lì, andiamo a vincere a D'Avellino, andiamo a vincere a Trastevere, ovunque andiamo giochiamo per vincere, altrimenti non ha senso, se vai a giocare per pareggiare è sicuro che perdi. Qual è la squadra che ti è piaciuta di più, ti manca solo di vedere il Budoni? Mi mancano Budoni e Luparoma, però se devo dire la verità il latte dolce nel primo tempo è stata la squadra che forse almeno a me personalmente mi ha messo più in difficoltà, parlo solo del primo tempo, probabilmente giocavano con un 3-5-2, il mister ci ha spiegato le uscite, però comunque non era semplice per come si muovevano loro, quindi il primo tempo con il latte dolce per me è stato il più difficile. Senti, si può sognare anche per il tuo genere di ritorno? Certo che si può sognare, non è mai vietato sognare, quindi per ora piedi per terra, umiltà, pensiamo al primo obiettivo, poi si vedrà. Grazie Andrea, complimenti per il gol, per la vittoria, per la classifica, per tutto, in bocca al lupo per questa chiusura d'anno e che il 2019 sia almeno ricco di soddisfazioni come questo. Lo spero, lo spero, grazie mille. Grazie a tutti.